Siamo con Andrea Milani, allenatore, ex giocatore in diversi campionati. Il Lecco è tornato alla vittoria dopo tre mesi e mezzo di assenza di un risultato pieno. È un motivo di speranza? Il campionato è ancora aperto per un risultato di salvezza? Finalmente per quanto riguarda la vittoria. Poi la speranza è sempre l'ultima a morire. Ci sono cinque partite, 15 punti, non so se possono bastare per salvarsi, perché la Ternana poi ha vinto Cremona all'ultimo minuto, quindi rischia un po' di complicare le cose. Però il campionato è compromesso, ma la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi speriamo. Il prossimo appuntamento interno di sabato è con il Venezia, che tra l'altro ricorda l'ultima vittoria in Serie A dell'Ecco nella primavera 1967, perché l'ultima partita del casalinga dell'Ecco in quel campionato della retrocessione dall'A alla B è stata con il Napoli che vinse 3 a 0. Però 15 giorni prima aveva vinto la sfida con il Venezia, anche questa squadra era stata già condannata alla retrocessione in B. Quindi calano ricordi di campionati decisamente migliori. E speriamo sia di buon auspicio vincere, che non sia l'ultima, perché abbiamo bisogno anche di altre vittorie. Domenica il Venezia è dura, perché il Venezia è in lotta per la Serie A, è una grande squadra. Però all'andata, con questo allenatore e con questa squadra, eravamo riusciti a strappare un punto in laguna molto, molto prezioso. Ma cos'è che è successo a questo l'Ecco che dopo un avvio promettente, superiore alle previsioni della vigilia, si è improvvisamente arenato e bloccato? Ma secondo me è uno dei tanti misteri che alleggia negli spogliatoi di una squadra di calcio, perché la rotta a fine 2023 era tracciata ed era una rotta ben delineata, dove si sarebbe fatto fatica perché ci mancherebbe altro. Però avevamo dimostrato di battere grandi squadre. Poi il nervosismo, secondo me l'impreparazione della società non capace di gestire un mercato, una situazione, una società complessa come quella che può essere una Serie B, con un mercato in pieno campionato, 11 giocatori presi, 11 giocatori mandati via, lì si è spaccato qualcosa nello spogliatoio. E soprattutto non aver saputo gestire la direzione tecnica, con Malgratis, Malgratis poteva fare qualcosa di buono, si è dimostrato e non capisco perché sia stato mandato via dopo le 4-5 sconfitte. Perché, ripeto, il Lecco le può fare 4-5 sconfitte al primo anno di Serie B dopo 50 anni. Però, boh, non lo so. Guardando al futuro per la nuova proprietà, adesso sono affiorati, sono apparsi gli americani. Ma speriamo che siano americani, cinesi, indiani o come quelli dall'altra parte del lago. Speriamo che arrivi qualcuno che investa non solo nella società, ma anche nelle strutture. Perché a Lecco manca la struttura, non è solo questione di stadio, ma manca proprio una struttura, una casa dove le giovanili possono trovarsi, dove la prima squadra possa allenarsi. E allenare oggi in Serie B non basta un campo con due porte, ci vuole tutta una struttura per un match analysis, per tante tante cose, per preparare le partite al meglio. Perché mi chiedo, ma quest'anno come venivano preparate le partite? Perché alcune trasferte così arrendevoli, secondo me, si arrivava proprio come una squadra di dilettanti allo sbaraglio. Intanto adesso il prossimo appuntamento, vogliamo ricordarlo ai tifosi, a coloro che non mancano di sostenere i colori buccellesti, sarà con il Venezia. Sì, col Venezia sabato. È una partita spettacolare, perché il Venezia è una grande squadra. Speriamo, però l'eco di Malgrati ci ha dimostrato di fare tanti sgambetti a tante squadre, come il Parma. Speriamo, speriamo in bene. Speriamo.